Allora, siccome parliamo di... Ah, e quindi... Ah, ecco il punto. Aspetta, ecco il punto. Qual è il punto? Ripetelo un altro... Qual è il punto? No, no, ripetilo. No, qual è il punto? L'abbiamo sentito tante volte. Ma perché Molinari deve parlare di sorella all'università? L'hai appena detto. No, caro... L'abbiamo sentito tante volte. L'abbiamo sentito anche in... Questo è il punto. Questo è un bel pezzo di trasmissione, me lo tengo registrato. E allora, tienilo giusto. È interessante. Perché ho detto, l'abbiamo sentito anche in questo studio. E quindi? I suoi spazi li ha avuti, gli studenti a Roma non hanno potuto neanche parlare con la rettrice. L'università non è un vostro spazio. Allora, qui c'è un errore clamoroso di... Allora, ecco, finalmente è uscito la questione. Il senso che è destinato agli studenti. Mi state dimostrando che parlare di Israele nell'università... Visto che... Oggi vieni preso a pedate nel culo. Visto che mi avete interrompato voi voi. Questo è il tema che state sostenendo. Posso rispondere? Prego, prego. E se uno studente della normale difesa lo sostiene, è un argomento non normale. Allora, allora... Claudio, dottore, non normale. Fermi, Claudio. E non normale. Claudio. Non normale me lo rivendico, guardi, da tutti i punti di vista. Claudio, vai, proceda di senza... Non fate i batti vecchi. Sì, sì. Di quello che...